Cheratosi palmoplantare, o malattia di una tosta, è un'affezione dei tegumenti, caratterizzata da una ipercheratosi profonda localizzata al palmo delle mani e alla pianta dei piedi, evolvente nelle forme più gravi verso l'automutilazione. Si manifesta con corneificazione estesa simmetrica al palmo delle mani e alla pianta dei piedi, cheratoma, con possibile estensione alla regione dorsale e formazione di bande fibrose ad anello che comprimono le strutture vascolari, nervose e dosse, portando nei casi più severi all'amputazione delle dita ed anche delle mani e dei piedi. Lo sviluppo psicofisico è normale. La malattia si trasmette in modo autosomico dominante, con forte penetranza. È poco frequente, 1,40 mila, e si riscontra soprattutto in alcune regioni settentrionali della Svezia, dove l'incidenza tra la popolazione scolastica è pari allo 0,55%, insorge precocemente, 5-12 mesi. Cheratosi palmoplantale Uomo di colore di 19 anni Distruzione delle mani e della pianta dei piedi, con riassorbimento totale delle falange delle mani e dei piedi, subtotale delle osse metacarpali e parziale delle osse metatarsali. Grazie Grazie Grazie